Zen Circus al concertone del primo maggio, contenti? Certo, siamo più o meno sempre contenti Quando c'è da suonare siamo sempre contenti Voi avete fondato la band nel 94 Ma vi sareste mai immaginati nel 2018 un concertone così indie? Di essere vivi più che altro Più che altro di essere vivi Comunque detto questo, in realtà c'è sempre stata una forte componente di musica Chiamiamola indipendente Però insomma secondo me il concertone per sopravvivere giustamente Si deve anche affrancare a quello che è la musica di oggi Indie o non indie che è un termine che noi usiamo, accettiamo Ecco accettiamo, ma per noi è musica italiana E il concertone giustamente propone quella che è la musica italiana di oggi E quindi penso che non ci ponevamo il problema fondamentalmente Nel tempo eravamo convinti che il tempo in generale le cose le cambia, le crea Quindi sì, probabilmente sì, ce l'aspettavamo Ma è stato il tempo o è stato internet? Perché voi avete, a differenza di questa generazione di giovani cantautori Avete costruito la vostra carriera girando fisicamente i club di tutta Italia Come sarebbe stata la vostra carriera se ci fosse stato internet nel 94? Che aveva questa influenza qui come ce l'ha adesso? Vabbè dai aspetta, internet bene o male Io mi ricordo il primo sito di Izen è del 99 Quindi in realtà eravamo già molto internetari Certo, mancava quella facilità La componente sociale non c'era Sì, la componente social non c'era La componente sociale ha fatto tantissimo E ha fatto sì anche che si possa non passare dalla televisione Per fare numeri più grandi della televisione Questo è quello che sicuramente per noi Prima che poi finissimo più spesso in televisione come negli ultimi anni È quello che ci ha sicuramente cambiato la vita C'è stato un momento in cui ci rendevamo conto Wow, banalmente vendiamo quanto chi è andato a Sanremo E questa cosa ci faceva ridere Perché nessuno ci aveva mai visto in tv Quindi sicuramente internet ha cambiato tanto Sfruttare la musica, ascoltare la musica oggi è un modo diverso Di come si faceva tempo fa Ma è normale, è naturale Non so cosa sarebbe successo Non possiamo immaginarci cosa saremmo se non fossimo noi stessi Perché già solo di per sé l'esistenza è basata Al fatto che la viviamo da dentro questa scatola Che è il corpo nostro Quindi non te lo so dire Di certo è che le cose cambiano E gli zen non è che cambiano Però semplicemente siamo passato del tempo E ci rendiamo conto che oggi la musica è diversamente sfruttata È diversamente proposta Però per il resto Non penso sarebbe cambiato molto Noi per noi, per quanto riguarda noi Avremmo suonato i mille pasta concerti Ci avrebbero magari risparmiato delle enormi fatiche Certo perché ovviamente la promozione Come promuovere il proprio prodotto All'epoca era sicuramente più avventuroso Adesso ci sono tante possibilità per i ragazzi Che noi non li invidiamo Ma riconosciamo che hanno avuto un periodo più fortunato È giusto Noi penso che abbiamo lavorato anche in quest'ottica qua Quindi il fatto che oggi ci sia la possibilità di fare un primo disco E di fare le arene per noi è una cosa bella Una cosa che tra l'altro succedeva in tutto il resto del mondo Tranne che in Italia Quindi va bene Sentite, c'è stato un momento della vostra carriera In cui avete capito che la vostra musica Significava qualcosa di profondo per chi la ascoltava? Ma io ho il ricordo personalmente Della prima volta che le voci del pubblico Erano allo stesso volume della mia Quando si cantava E lì ho detto Che sta succedendo? Però per noi è stato talmente spalmato Nell'arco nel tempo Che veramente non l'abbiamo vissuto con nessuna pressione Fino ad arrivare oggi Dove appunto siamo in un tour incredibile Veramente è incredibile Se ci portassimo dietro anche solo a 15 anni fa Noi Zen Tour di oggi sarebbe incredibile Quello che stiamo facendo E sicuramente c'è stato quel primo momento lì Però poi è stato molto spalmato nel tempo Siamo stati fortunati in questo Siamo stati molto fortunati Perché è stata una cosa quasi un po' Vi stiamo detto un furgoncino È stata una cosa quasi diesel In un certo senso È una cosa quasi come un furgone diesel Che scalda La prende Poi arriva al rettilineo Va a 80 Poi va a 90 È un po' come un vecchio furgone diesel Che piano piano quando trova il rettilineo Arriva No va Ficché non grippa Insomma Però sì Siamo stati fortunati su tutto quell'aspetto Ragazzi Laura Laura Si esiste ma non si chiama Laura Ovviamente Cioè ovviamente È andata così Per quanto riguarda la nostra canzone d'amore Io personalmente Che canzone d'amore La prima canzone che parla d'amore Credo che sia stata figlio di puttana Per quanto mi riguarda Perché amore dipende anche da cosa si intende Sono molto per l'accezione anglosassone di love Quindi io posso amare mio padre Amo mia madre Amo lui Amo lui Amo lui Amo te Amo la mia ragazza È uguale La concezione è la stessa E quella canzone è sicuramente la canzone in cui Un amore sia per me stesso Che per quello che avevo intorno Perché per la prima volta Insomma Mi sono nudo a parlare delle cose che avevo intorno Davvero Quindi Forse è la prima canzone d'amore In senso generale Per me invece Credo sia nel paese che sembra una scarpa Sì Che è il primo brano dell'Izzè È nato per subire nel 2011 In cui c'è Che si comincia a parlare Si comincia a parlare dei rapporti Di relazioni Che la vita sempre ne è stata Su un piano Sociale Non io e te tre metri sopra il Zert Però c'era già Però c'era già Sì E quelli è forse il primo Primo prodromo di quelle serie Poi si diventa altri lavori che abbiamo fatto in seguito Concordo anche con lui Sì Passiamo al concertone Lo avete mai fatto dalla parte del pubblico? No No Non ho avuto l'occasione No Purtroppo Prima di lavorare a tempo pieno con la musica Ero ahimè un lavoratore Della ristorazione Quindi il primo maggio 25 aprile Pasqua Pasquetta Ho sempre lavorato E poi Ho cominciato a lavorare seriamente con gli inziani Il primo maggio Che non ti suonavamo Perché ce ne sono tanti In tutta Italia Quindi L'ho sempre visto in televisione Poche volte che ho avuto tempo È bello esserci dentro Anche per quello Perché proprio ci arriva dal nulla Ho capito così E infatti come ve l'aspettate? Quel palco? Il pubblico? Ma guarda È un palco Cioè ora Non è perché ovviamente È emozionante Però è un palco È emozionante come suonare Però nel senso È un palco C'è le spie C'è la batteria C'è la batteria No cerchiamo di vivere in questa maniera qua Poi io ci sono finito nel 2013 già Con Cosmo e con la Pesce Insieme all'orchestra di Cosmo E fra l'altro è molto divertente Questo è un aneddoto Che magari non me nemmeno ho detto mai a voi Ma quella volta Il primo maggio aveva chiesto A noi di cantare Viva l'Italia Di De Gregori E si fecero le prove qua dietro Con Cosmo Che ancora Cioè che ancora doveva essere conosciuto oggi Ha spaccato tutto Quindi sono molto felice Con la Pesce uguale E praticamente si faceva sta prova Cioè viva l'Italia Viva l'Italia L'abbiamo provata mille volte Io pensavo Guarda quanti viva Dicono gli italiani E ero su questo palco qui Mentre si faceva le prove Il check E dicevo Viva l'Italia Viva questo Viva quello Viva quell'altro E è nata viva La canzone E' il pezzo Quindi è colpa E' anche il pezzo Più conosciuto Sicuramente Il più amato E' super carambata Domani la facciamo Domani la facciamo Quindi è incredibile Beh Meraviglioso Grazie a tutti Grazie a tutti